io sono gianluca cattolini se ancora non avete fatto viva iscrivetevi a questo canale se ci guardando su youtube se ci state ascoltando su spotify su qualsiasi altra piattaforma o grandi continuate a farlo anche quest'anno continuate a farlo non vogliamo sempre avanti anche perché grazie a voi che ci seguite che stanno accadendo cose sempre più belle e al basement possiamo ospitare invitare amici sempre più speciali ed è per questo sta succedendo dal basement è passato alessandro si ami buon poveriggio buongiorno buonasera sai che il podcast uno se lo ascolta in un momento che vuole lui e poi soprattutto qua non si capisce dove stiamo qual è l'orario qual è l'atmosfera se fuori se ne sapete dove vede se ne sapete nulla in uno spazio tempo che forse non ci sono nemmeno io non ti avevo raccontato questa cosa recentemente abbiamo invitato dei ragazzi che ci seguono stiamo dando questa possibilità intanto di far venire qualcuno solo che non volendo svelare il posto siamo andati a prenderli dove gli abbiamo altri ritrovati e li abbiamo vendati e gli abbiamo messo una maschera e li abbiamo portati qui però fa parte dell'experience abbiamo detto si sono ritornati a casa che si stiamo aspettando ancora il messaggio tu come stai stai bene 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 quando poi diciamo sono mozzafiato non è la parola che si usa quando vedi una cosa estremamente bella no si riparla è Ave Maria, ave Maria. Quattordicesima stazione, Gesù è deposto nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. L'angelo secondo Giovanni, presero dunque il corpo di Gesù e lo avvolsero con vende assieme agli aromi. Come osano, deposero Gesù a motivo della preparazione dei dei, poiché quel sepolcro era vicino. Signore, sei stato ormai sepolcro, è anche la mia, che anche il nostro sepolcro non sarà la nostra abitazione definitiva, ma solo una dimora provvisoria. Custodiscimi, nessuno ricorderà i nostri voli. Il contrasto di ogni tipo di schiavitù portano avanti l'impegno di rendere omaggio alle vittime di questo crudele racket, mantenendone viva la memoria e contrastando ogni forma di sfruttamento. O Dio, ogni opera buona, perché in vita e in morte siamo confermati nella speranza della gloria. Per Cristo nostro Signore. Amén. Padre nostro Padre nostro Padre nostro Padre nostro Padre nostro